Primo confronto tra la Regione e gli ordini professionali sulla società opera e infrastrutture della Sardegna SRL istituita alcuni mesi fa dall'Aggiunta regionale che sta incontrando una dura opposizione da parte degli ordini professionali. All'incontro che si è tenuto presso la Sorata dei Lavori Pubblici hanno partecipato Patrizia Assini, coordinatrice regionale della Rete delle Professioni Tecniche che ha consegnato il documento elaborato nella riunione del 9 gennaio, il Presidente dell'Ordine dei Geologi Giancarlo Carboni. Nel suo intervento l'Assessore dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, ha sottolineato che nelle intenzioni della Giunta regionale la società vuole rappresentare un'opportunità per il settore delle opere pubbliche e in particolare per il sistema delle professioni. Probabilmente alcune delle osservazioni critiche pervenute nei giorni scorsi possono derivare da una non esaustiva esplicitazione delle finalità della società prevista dalla legge regionale numero 8 del 2018, ha sottolineato Balzarini. Una legge frutto di un percorso durato 4 anni, rilevato l'esponente della Giunta Piglieru, che contiene numerosi aspetti innovativi che hanno come obiettivo quello di migliorare la gestione del ciclo delle opere pubbliche in Sardegna. Secondo l'Assessore dei Lavori Pubblici Balzarini, la società ha l'ambizione di essere lo strumento sperimentale volto a verificare la possibilità di perseguire positivamente questo obiettivo. Seppur sia stata ad alcuni frettolosamente definita società di progettazione, ha precisato Balzarini e ben altra cosa non costituisce nessuna turbativa per la consueta corretta operatività delle libere professioni, di cui peraltro deve avvalersi. Assessore Balzarini, al termine del dibattito con i rappresentanti degli ordini professionali, ha ribadito, rispondendo alle perplessità sollevate, che già lo statuto della società contiene sufficienti elementi a garanzia del rispetto delle finalità della società e confermata la volontà espressa nella deliberazione di coinvolgere gli ordini professionali nel costruire un piano economico finanziario nella fase di avvio ed in tutto il percorso di operatività della società, anche attraverso un tavolo permanente di confronto.